Il nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim Alif Lam Mim Questo è il libro su cui non ci sono dubbi. Udallil muttaqin Una guida per i timorati. Al-lazina yu'minuna bilgaybi wa yuqimuna assalata wa mimma razaqnaahum yunfiqoon Coloro che credono nell'invisibile, assolvono l'orazione e donano di ciò di cui noi li abbiamo provvisti. Al-lazina yu'minuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min kablika wa bil akhiratihum yuqinun Coloro che credono in ciò che è stato fatto scendere su di te e in ciò che è stato fatto scendere prima di te E che credono fermamente all'altra vita Ula'ika ala hudam mir rabbihim wa ula'ika humul muflihun Quelli che seguono la guida del loro signore Quelli che sono coloro che prospereranno In verità, per quelli che non credono, non fa differenza che tu li avverto oppure no Non crederanno Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawah Wa lahum azabun azim Allah posta un segillo sui loro cuori E sulle loro orecchie E sui loro occhi c'è un velo Avranno un castigo immenso Wa min al nasi man yaquulu Amanna billahi wa bil yewmi l'akhiri Wa ma hum bimu'minin Tra gli uomini via chi dice Crediamo in Allah e nel giorno ultimo E invece non sono credenti Cercano di ingannare Allah e coloro che credono Ma non ingannano che loro stessi e non se ne accorgono Nel loro cuore c'è una malattia E Allah ha aggravato questa malattia Avranno un castigo doloroso per la loro menzogna E quando si dice loro Non spargete la corruzione sulla terra Dicono Anzi Noi siamo dei conciliatori Non sono forse questi i corruttori Ma non se ne avvedono E quando si dice loro Credete come hanno creduto gli altri uomini Rispondono Dovremmo credere come hanno creduto gli stolti Non sono forse loro gli stolti Ma non lo sanno Quando incontrano i credenti dicono Crediamo Ma quando sono soli con i loro demoni dicono In vero siamo dei vostri Non facciamo che burlarci di loro Allah si burla di loro Lascia che sprofondino nella ribellione Accecati Sono quelli che hanno scambiato la retta guida con la perdizione Il loro è un commercio senza utile E non sono ben guidati Ma senza utile Assomigliano a chi accende un fuoco, poi quando il fuoco ha illuminato i suoi rintorni, Allah sottrae loro la luce e li abbandona nelle tenebre in cui non vedono nulla. Sordi, muti, ciechi non possono ritornare. O come una nuvola di pioggia nel cielo, gonfia di tenebre, di tuoni e di fulmini, mettono le loro dita nelle orecchie temendo la morte a causa dei fulmini, e Allah accerche i miscreventi. Yacadu albarq yakhtafu abcārahum, kullama aضāa lahum mashaw fiih, wāizā aظlem عليهم qāamu, walau shāā allāhu lavahaba bi sam'ihim wa abcārihim, innā allāha alā kulli shayi in qadīr. Il lampo quasi li acceca. Ogni volta che rischiara procedono, ma quando rimangono nell'oscurità si fermano. Se Allah avesse voluto, li avrebbe privati dell'udito e della vista. In verità, Allah su tutte le cose è potente. O uomini, adorate il vostro Signore che ha creato voi e quelli che vi hanno preceduto, cosicché possiate essere timorati. E' l'uomini, adorate il suo sonico, qāda ālēm, innā alāhu developpēcīr, e glomano avesse voluto, e dellāhu salat irizqāllākmī, Egli è colui che della terra ha fatto un letto e del cielo un edificio E che del cielo fa scendere l'acqua con la quale produce frutti che sono il vostro cibo Non attribuite consimili ad Allah, ora che sapete E se avete qualche dubbio in merito a quello che abbiamo fatto scendere sul nostro servo Portate allora una sura simile a questa e chiamate altri testimoni all'infuori di Allah Se siete veritieri Se non lo fate non lo farete, temete il fuoco Il cui combustibile sono gli uomini e le pietre che è stato preparato per i mischerienti Grazie a tutti Grazie a tutti